E beh ragazzi, questa è l'ultima parte ragazzi, proprio l'ultima, l'ultima parte ragazzi che non potete capire ragazzi qui La potenza ragazzi assoluta, ok? Guardate La potenza assoluta, ok? Perché me li fa pagare? Che ti costa farmeli? Ti doni i tuoi soldi e fammeli sto conto Cioè, ok, io qua dicevo che ti facciamo un conto, ok? Poi gli ho detto, anche, no perché se dobbiamo prenderci per il culo, puntini puntini, ok? E poi gli faccio un conto, poi per il 20 euro, due conti per il 40 euro Perché siccome non mi vuole inviare i soldi, gli ho detto ti creare un conto allora Lui mi fa, ok vai creare, ma gli ho detto, ok allora sono 20 euro Cioè, perché se ci dobbiamo prendere per il culo, allora prendiamoci per il culo Comunque gli ho detto, guarda facciamo così perché non ho voglia di perdere altro tempo Se vuoi ridarmi i miei 13 euro più il ruolo a streamer, bene, oppure ti faccio un po' di content su YouTube Ti tocca il mio papilli, ce l'hai, il tuo server ce l'hai Vedi te, se ti vuoi rovinare la recensione Se proprio devi ancora dirmi qualcosa altro andrò anche alla postale Tanto è a 15 chilometri da me Che ti devo dire? Perché non penso sia molto legale il tutto Infatti ragazzi, per essere legale Cioè, già il gioco d'Aggzardo in Italia è illegale, ok? Però per essere legale Dovrebbe essere col monopolio di Stato Deve essere con partita IVA Dei dipendenti che devono avere contratto Deve regolare, ok, eccetera, eccetera, eccetera Eccetera, eccetera, eccetera Cioè, deve essere tutto dichiarato E in più ci deve essere monopolio di Stato Perché quei siti di gioco d'Aggzardo che vedete ragazzi Se non hanno monopolio di Stato, ok? Non è legale Non è legale, è inutile Non è che se un sito sta in piedi vuol dire che è legale Ci deve essere monopolio di Stato Quindi, questo qua è impossibile come monopolio di Stato, ok? Perché, siccome, se ti entrano Anche se ti entrassero Non so, facciamo 1000€ al mese, ok? Non, cioè, circa vai a pelo a pelo Forse a culo, non lo so Per tenere aperta un'attività Quindi, sicuramente, non hai un'attività aperta, ok? Quindi vuol dire che superate i 5000€ Di entrata occasionale, ok? Quindi dovrebbe aprirsi partita IVA E dichiarare quei soldi E non l'avrà fatto sicuramente Perché io non vedo partita IVA esposta Infatti, la partita IVA deve essere esposta Ragazzi, se non lo sapete, adesso lo sapete Comunque, tanto altro Quindi, se vado alla postale Li fanno un culo grande tanto, ok? A parte questo Mi ha scammato, quindi 15€, ragazzi Mi ha rubato 15€ Andiamo a vedere Io ti dono Fammi un po' di pubblicità a fare Ti ringrazio Però sappi che in questo server 100% leggi Te non accettiamo le fondo Ma a sto giro posso fare un'eccezione Anche se mi gira un po' il cazzo Non mi sono arrivati i soldi Li ho scritto Non ti ho donato Puntini, puntini Gli scrivo Scamma la cosa Non mi sembri una persona molto affidabile E matura Se ti comporti in questo modo Lui mi fa Per me te puoi pensare a quello che vuoi Io le rispondo E quello che dimostri te non io Ma ti stai morendo Vuoi un pezzo di pane? Prima dici che caghi i soldi E poi sei lì che cringi per 13€ Poi, andiamo avanti Tranquillo Ho tempo Appena ho tempo Vado dalla postale Ti faccio un paio di video recensioni Poi puoi scammare I bambini Non le persone adulte Ma giornate che portano pazienza E che le cose le sanno E che le cose Come stanno realmente Le sanno Ok? Quindi è stata questa Ragazzi La chat Ragazzi Vi ho fatto vedere tutte le prove Comunque in ogni caso Mega scam Ragazzi Dal capo Ragazzi Del server Dal capo Del Server Mega Scam Ragazzi Cioè Assurdissima la cosa Mega scam Comunque ragazzi Noi ci becchiamo Nel prossimo video Spero che questo video Ragazzi vi sia piaciuto Avete capito che ragazzi Comunque questo server Non è affidabilissimo Sapete che non è affidabile Adesso Quindi ragazzi Noi ci becchiamo Nel prossimo video Beh ragazzi Grazie